Un abbraccio moderno, un sorriso ritrovato, la stessa passione ed una nuova felicità da costruire. Si è ufficialmente elevato lo scorso lunedì il sipario sulla prossima stagione sportiva del Futsal Biton Tour 2019. Una stagione che per la prima volta vedrà il Nero Verde affrontare un campionato di livello nazionale come quello di Serie B. Un appuntamento con la storia dunque nel quale i loncelli non vogliono assolutamente recitare la parte della matricola spaisata. Certosino, infatti, è stato l'operato da parte di tutta la dirigenza bitontina in fase di mercato estivo. Dopo le disofferti di Capitan Satalino, Palermo, De Civis, Ferrera e Lorusso, la società si è mossa fin da subito in varie direzioni riuscendo a portare alla corte di Mr. Pietro di Bari elementi di assoluto valore per la categoria. Gente come Michele Deliso, Luigi Giancola, Mauro Caggianelli e Marco Nitti. Oltre già credito i ritorni di Cacco Catucci e dell'asso brasiliano Claudio Barbosa. Tutti atleti dal discutibile valore tecnico e dalla totale personalità in campo e fuori che vanno ad aggregarsi ai riconfermati della scorsa stagione. Fra cui Marco Ritorno, Dario Orlino, Antonio Lovascio, Roberto Tarantino, Raffaele Acquafredda e Davide Schettini. Quest'ultimo che avrà l'opportunità di riabbracciare in prima squadra i propri compagni d'avventura dello scorso anno nel campionato juniores come il fantasista Adesso Everiello e l'ancorander Gaetano Mancazzo, Pasquale Minenna, Gianni Muzio e Pasquale Lorusso. Esperienza, carisma, talento e giovani dalle grandissime prospettive. Il mix esposivo per la prossima stagione ormai è stato dunque creato. Ora non resta che proseguire nella preparazione muscolare per quella che, a tutti gli effetti, sarà una stagione dura ma che saprà riservare delle grandissime sorprese in casa Fuzz al Bitonto 2019.